Oh, riesco a uscire col *** mercoledì alle 8 qualcosa No, di mattina, si rivesca di Durgioi perché lui mi fa se la mia moglietta è la *** Lo rapiniamo di brutto, scritta Durgioi su WhatsApp però non mi caga, dobbiamo rapinare Passamelo, passo brunetto Ecco questo, pronto? Oh *** senti, però va proprio *** Deve fare appunto il video con lui, questo mercoledì alle 8 e un quarto prima di stare a scuola Allora, rapiniamo, lo svuotiamo Cosa? Lo dobbiamo rapinare, lo svuotiamo, questo è vero, tu vedi tu? Tu vedi i due dì, ti vedi alle 8 e un quarto, non so, danno un posto vuoto Ne pensa con me Wow, posto vuoto Ai jardini pubblici Ah, diciamo di andare lì Diciamo che siamo solo io, cioè poi dopo portiamo un *** No, cosa potremmo inscenare? Tipo che lì, al posto del, lì con la madre, stai finta, io ho messo la foto della *** Potremmo andare là con lei, con te, facendo finta che lei è la mia morosa cosa scrive lui a lei Sì, infatti volevamo fare quello Sì, infatti volevamo fare quello Qua è un pedofilo Cioè, è il vostro tipo? No, te l'ha raccontata *** Oh no, no Vabbè, mi conviene anche a noi, tipo Viene Ilias, tipo ci manda delle foto della roba così, però ci fa dei ricarichi dell'altra roba Allora, noi pensate che è un appuntamento con noi Ma cos'è chi? A me, Ilias che mi fa il passare poi la femmina Sì, è da *** Allora, tipo noi iniziamo a ricattare, a trovare un po' così E tipo noi la prendiamo, se non lo vediamo, ci stupicchiamo Ma quanti siamo? O ma, mi hanno messo il tocco perché se c'è tanta gente, la vecchia non vengo io Comunque ci dovrebbe portare 500 euro Che cazzo dici? O, 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 io porto la testa, la giocatta, se mi dico La stessa da prelevare mi dà 5.000 euro, se no qua finisce male, ve lo giuro Sì, bella, bella Comunque sai perché, eh, perché noi gli amici scopriamo con noi che non gli risolvi Che cazzo dici?